Il Bari domani sarà di scena al partenio di Avellino per riprendere a far punti e riscattare l'amara sconfitta di Lanciano. Nessun dramma, certo, anche a Lanciano la formazione bianco-rossa ha mostrato buone geometrie e qualità nel gioco, con la solita e unica pecca, quella del gol. Contro i lupi di Rastelli, galvanizzati dalla vittoria contro l'Empoli, il duo Alberti-Zavettieri potrebbe cambiare qualcosa, specie in fase offensiva, dove scalpita Beltrame e con lui Alonso. Saranno loro probabilmente le novità di un assetto tattico che non dovrebbe discostarsi dal costueto 4-3-3. Confermata la difesa, a centrocampo potrebbero esserci delle novità. Con Romizzi e Lugo che scalpitano, il residuo dubbio pare essere ancora in attacco. Chi tra Fedato e Galano completerà il terzetto offensivo? Pare proprio che qualche chance in meno l'abbia questa settimana l'esterno Foggiano, fin qui uno dei più positivi. Normali logiche di turnover alla base, c'è Fedato da recuperare e responsabilizzare in fretta, che mancherà poi nella sfida contro il Crotone fra otto giorni, per impegni con la nazionale Under-21. È rientrato in gruppo Samnic che sarà convocabile. Lavorano ancora a parte invece Albadoro e Masi. Il resto della squadra sarà a disposizione e sarà a tutti gli effetti schierabile domani in Irpinia. Intanto, il prossimo 13 ottobre, la formazione Biancorossa ospiterà il Crotone per la non aggiornata di campionato. E qui la domanda nasce spontanea. In che stadio verranno ospitati i calabresi? Come noto, la società Biancorossa non ha preso ancora nessuna decisione ufficiale in merito al San Nicola. L'utilizzo dell'impianto di proprietà del Comune esige costi troppo elevati per le deboli casse del Bari, che non pare assolutamente intenzionato ad accettare la proposta avanzata tempo fa dal sindaco di Bari Michele Emiliano, che vorrebbe continuare a concedere la gestione del San Nicola all'ES Bari, ma a patto che sia la società a farsi carico dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il tema, sempre più delicato, sarà affrontato nel Consiglio Comunale di martedì 8 ottobre. Dall'esito dipenderà l'eventuale addio al San Nicola e il trasloco al degli ulivi di Andrea.